Ciao Artichitaka, un giallo vestito, questo è giallo acido? Ma potrebbe essere anche verde acido? Ah il governo giallo verde, c'è Conte, fra l'altro Antonio Gondos, che è il nuovo presidente incaricato, è un altro grande del Barcellona che è quasi come te. Buonasera dottoressa Di Benedetto, lei è sempre in ottime condizioni. Come sta? Cruciani per esorcizzare il dolore della Lazio si presenta alla maglia del Liverpool. Si vince, si perde. Ha un giornale dove scrive. Scrive su Twitter appunto perché c'è la fidanzata, pover liberarsi. Ma è felice per liberare, mi raccomando fare un fatto di l'altro, hanno fatto un... Sì, mi chiamo Paola, ho 21 anni, sono di Vicenza, parlo di Benedetto. Il mio sogno è sempre stato quello di fare la giornalista sportiva, ma in generale condurre è quello che mi piace più fare, molto di più che farla modello, posare per servizi fotografici, a me piace veramente tanto condurre. Non sai quanto mi sollevi. Allora adesso facciamo... Lancia la cosa su... Adesso a servizio di Balsarini sulla Juve. No, bravo! 2020, no? Di Sardegna, prevede... Una notte, una notte, una notte... Le partite precedenti a questo incontro qua, il matchbook non l'abbiamo... Approfittato. Approfittato. Luisito, cosa serve all'in... Due. Due? Ieri sera, insomma, ha intervistato, ha fatto capire qual è la sua idea. Saranno ore, ovviamente, molto calde, molto delicate. Posso chiaro! Pensa delle seconde squadre... Estrello delle nostre perversioni. E gli dici menestretto? Hai fatto la partita di... Link, se non è il tweet, è un poema. Perché vedo l'abbate per la prima volta qui... Buona parla. Trampà il capitano della... Non fa capire che sono i problemi agli anni. È diventato un signor odio! L'hai postato su Twitter? Hai scritto su Twitter stasera? No, non l'ho scritto io. Ho scritto nulla. Ma che parte sto? Ma che ne so? Oh, Piede. Con Sarri? Ho avuto delle influenze toscane passate. I toscani, per esempio, come fa Spalletti? Perché? Non lo so. Non cambia. Va! Via! C'è Sto Vecchi, ma gli altri no. Ecco Scema! Ricordo che l'attuale... La parla della Juventus, qualche responsabilità in questo passaggio. Eh sì. Ha ragione, perché... Ecco! ...che no, con dei... D'altro. Basilica Mariana. La classe cultura. I gatti anche. La classe cultura. No, i gatti. Ma no, i gatti. Ma lui è i gatti, sì. Vengono chiamati. Eh sì, dobbiamo nominare il Tiki Bomber di stasera, che insomma lo faccio un po' virtualmente al pubblico a casa, perché comunque è il quinto anno che ci seguono, quindi grazie. Ve lo mandiamo a tutti. Grazie. Va bene, va bene. Quindi grazie. Mi raccomando, per me di questa nostra matrona di casa. Io voglio ringraziare... Grazie. Grazie. Grazie.